Un fucile mitragliatore Kalashnikov, tre fucili a canne mozze, una pistola mitragliatrice, cinque pistole di vario tipo e un silenziatore, oltre a 500 cartucce, un passamontagna, una placca e una pettorina simili a quelle in uso alle forze dell'ordine e circa 500 grammi di droga amnesia sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri la scorsa notte a Napoli. Le armi erano in tre borsoni sul terrazzo di un'abitazione in via Santa Maria Antesecola nel rione Sanità e sono state trovate dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli che insieme a quelli della Compagnia Stella stavano effettuando perquisizioni a carico di pregiudicati nella zona. Si dovrà verificare se queste armi sono state utilizzate in attentati o se dovessero servire proprio per realizzare ulteriori agguati di camorra.